Gli agenti di viaggio, come in tutta l'umanità, vedo sempre tendenze differenti. Ci stanno i giovani, o quelli che io definisco innovativi, ma per giovani non intendo i giovani anagrafici, i giovani nelle idee e nella preposizione, che rispetto alla tecnologia si pongono in maniera proattiva e cercano di cogliere opportunità. Ci stanno invece una parte abbastanza consistente di agenti che vedono la tecnologia con distanza e con poco interesse. Questo è capitato anche con gli Oculus. Abbiamo avuto delle agenzie che ne hanno capito le potenzialità e hanno colto l'opportunità di comunicare ai loro clienti e di creare eventi ad hoc, invitando i clienti in agenzia a provare questa nuova tecnologia, come scusa per poi chiaramente vendere un pacchetto con MSC. Altri clienti, in maniera abbastanza scettica, più legati al divertimento della tecnologia, non hanno colto questa opportunità, ma la vivono in maniera passiva. La stessa cosa, purtroppo, penso avverrà con la presentazione del cardboard dei nuovi cataloghi, ma noi continueremo a impegnarci, noi in prima persona e tutta la forza vendita, per aiutare i nostri partner e colleghi agenti di viaggio a capire che la tecnologia è un cavallo da cavalcare e non da respingere o guardare con scetticismo. Chi ha sfruttato questa opportunità? Ha venduto effettivamente più crociere? Assolutamente sì, gli agenti di viaggio che hanno fatto azioni promozionali a supporto della presenza dell'Oculus all'interno delle proprie agenzie, hanno certamente aumentato il numero dei loro clienti, ma anche ha avuto un incremento di vendite con le croce.